Ducati apre come sempre EICMA e anche quest'anno lancia novità sempre più potenti e tecnologiche. Anche per quest'anno le moto di Borgo Panigale hanno alzato l'asticella, a partire dalla multistrada, sempre più potente, tecnologica e connessa. La multistrada è una moto importantissima anche perché offre un'esperienza di guida straordinariamente ampia, quindi è una moto veramente in grado di essere utilizzata per turismo, come moto sportiva, come moto urbana, quindi è il concetto che è veramente straordinario. E la nostra multistrada 2015, che è tutta nuova, credo che segni veramente un salto in avanti, non tanto solo dal punto di vista tecnologico, ma proprio per l'esperienza di guida che si può ottenere con questo oggetto. Segna un innalzamento veramente della possibilità di godere di un'esperienza di guida straordinaria. Diversi componenti tecnologici oggi a disposizione per realizzare un pacchetto che è incentrato attorno al nuovo motore, con il doppio variatore di fase, che permette di avere un carattere che cambia completamente in funzione che venga utilizzato a bassi regimi o agli alti regimi e quindi una grandissima sportività. 160 cavalli di potenza per questa moto. Una connettività importante, un dashboard da colori, TFT, la possibilità di ricevere messaggi, collegarsi con il proprio smartphone e un'evoluzione importante anche nel mondo delle spensioni. Abbiamo lavorato sull'altezza sella, che è ulteriormente ridotta, quindi è regolabile e quindi può essere abbassata fino a 825 mm da terra e cambiando la sella, con una sella accessoria, arriva fino a 805 mm. Quindi abbiamo pensato un po' a tutti i mondi delle quattro moto in una, che caratterizzano la multistrada, per migliorarle in ogni segmento. La multistrada ha una cosa, secondo me, che è stata il più grande passo avanti tecnologico sulla sicurezza, che è il cornering ABS, che è finalmente ovvio a quel limite, l'unico limite che era rimasto l'ABS. Quindi sicurezza al top. Io penso che il lavoro sulla sicurezza sia uno dei più importanti, se non il più importante per chi lavora nel mondo delle due ruote. Noi abbiamo una roadmap di sviluppo tecnologico sulla sicurezza importante. Abbiamo presentato quest'anno due moto, la multistrada e la nuova sportiva, la 1299 Panigale, entrambe dotate di ABS e cornering. Quindi per noi ogni possibilità è un must che venga implementato con grande rapidità. Ma abbiamo una serie di sistemi che stiamo sviluppando, che afferiscono al mondo della comunicazione. Vehicle 2X e quindi afferiscono alla capacità del veicolo di rendersi conto di chi è attorno, diciamolo. Ma il mondo, diciamo, in generale, del fornire al nostro cliente la possibilità di divertirsi andando in moto, che è il mezzo più bello del mondo, in piena sicurezza, è una cosa che ci riempie veramente, diciamo, la giornata e per cui vedremo molte altre cose nel futuro. Ovviamente Ducati ha sempre le moto sportive nel cuore e la nuova 1299 S lo dimostra con i fatti. Diciamo che a noi piace la competizione e la Ducati è il costruttore di moto sportive. In un anno in cui era, diciamo, prevedibile che altri costruttori tornassero nel settore delle moto sportive con delle proposte molto competitive e interessanti, noi potevamo stare a guardare. Quindi abbiamo di nuovo riversato una serie di contenuti tecnologici e prestazionali che sicuramente rendono le prestazioni della moto, una volta messe in circuito, di un livello completamente diverso rispetto al passato. La grande novità di Ducati per quest'anno non è però una moto ma un'intera filosofia. Si chiama Land of Joy e la protagonista è la Scrambler. È una proposta totalmente nuova non solo di prodotto, ma una proposta di un modo diverso da andare in moto. È basata su un prodotto accessibile, accessibile non solo come altezza da terra o non solo come prestazioni, 75 cavalli rendono la moto meno impegnativa anche psicologicamente, accessibile anche economicamente perché con meno di 8.500 euro si può entrare in the Land of Joy con la Scrambler Icon. Lo Scrambler è una moto divertente. È la capacità di riscoprire la vera essenza della moto. Grazie a tutti.